Yeah, scusate, onda energetica, tirate sulle mani che arriva al Dragon Ball Rap, se non hai seguito questa serie e perché non hai infanzia? Big Bang attacca, attacca dal pianeta Namek, Vegeta, Son Goku, rivalità tra Saiyan, allunga il bastone, che ora inizia la battaglia, Siam pronti per la lotta, via sulla nuvola Spidi, o col teletrasporto, e se ti becco sei già morto, Son Goku, Goten, Krillie, Panstrang, Siamco, Rip, e Anketa Ensin, Gohan da bambino staccava al secondo livello, Satai non uccise Cell, e nemmeno D-Del, nessuno poteva controlli, il Super Saiyan leggendario chiedere l'energia a tutto il mondo fu necessario per vincere, l'energia sferica carbonizzò Mashinbu, e Freezer rimodellato si è visto di fronte, la spada di Trunks, gli scimioni uccidevano i nemici, distruggevano città, attraversavano edifici, 1, 2, 3, Fusione, L'Ocarina contene Val Degern dentro Tapio, le sfere del drago sono sparse per il mondo, prendiambradare capsule esplore ma tutto tondo, Radishmo di Kongoku, Vegeta uccise Nappa, Gohan sale e lista brutta contro i guerrieri di Bojack, la forza aumentava, a più di 8000, Vegeta venne posseduto da Babidi, Junior e Krillie, divennero di pietra, contro Darbula ed il gran Saiyan Man si ribella, combatte contro i terroristi che sono in città, Dragon Baller a Chertian, le mie sfere del drago, benvenuti siate sempre nella stanza del tempo dove un giorno reale, lì è un anno di allenamento, i cyborg nappero, col dottor gelo, nei tornei quasi sempre Goku arrivava primo, nel cielo si abbuffa ogni giorno, Shirobhai e Buffo vedrà arrivare su un tronco, Tau Bai Bai, Tarlese il frutto del potere, Garlic, Junior diventò grande da non credere, Semini magici, Naata, Jolly magici, Kaioshin, De Geek, il risultato dei Potara, con l'aiuto di Pei One fusione fra Goku e Vegeta, già nebbano poter confrontarsi con la potenza di Gogeta, Gotenks si sa che era uno spaccone, quando qualcuno moriva lo risuscitava Shenron, Oscar Bulma, Guard and the Fridger Machine, WSL, il massimo potere, rimase al quarto livello, forze speciali, Jinju cambiava i cori, Dodoria, Zarbon, Recon, tutti alla fin sonnor, Cooler, Baby, i draghi di ogni stella, Bardak ha provato tutto per difendere il suo pianeta, Dragon Ball, Dragon Ball Z è arte, Dragon Ball GT invece è l'ultima parte.